su Facebook a proposito delle dichiarazioni dell'Ira di Forza Italia, di cui parlavamo un attimo fa. Sentiamo l'intervista dell'inviato Giorgio Santelli. Quello che mi chiedono tutti, ma dal Veneto alla Sicilia, oggi nel mondo di chi crea valore, crea produzione, è fate meno leggi, non fate nuove leggi. Infatti l'obiettivo nostro è quello di abolire un po' di leggi. I programmi elettorali del futuro saranno gli elenchi di leggi da abolire, non da aggiungere. Noi nei prossimi mesi presenteremo un elenco di 400 leggi da abolire subito il giorno dopo le elezioni e che semplificheranno la vita degli italiani, perché siamo in un momento in cui quando hai un problema non sai più neanche quale sia la legge di riferimento a quel problema e l'ente che te lo deve risolvere. Parlo da una realtà ipertecnologica come H-Farm qui in Veneto, dove si dimostra che fare innovazione, creare valore significa anche cose semplici e uno stato più semplice. Proprio rispetto all'innovazione, l'idea di un paese che fosse anche più smart è uno dei temi che si è sempre sviluppato in Italia ma che non è mai riuscito a decollare. Voi rispetto a questo tema che cosa intendete fare? Ci sono tante realtà in Italia di innovazione che già esistono, esistono realtà in tutte le regioni. Adesso si tratta di unire queste mesi e metterle a sistema per un paese che non deve fare leggi sull'innovazione. Attenzione, non ci mettiamo a fare nuove leggi, prendiamo i soldi che si sprecano in realtà ormai obsolete dello Stato come la spesa improduttiva della pubblica amministrazione e investiamoli per digitalizzare le imprese e per digitalizzare la pubblica amministrazione. Scopriremo di poter vivere una vita di qualità in questo paese se cominceremo a investire nei servizi in digitale. Dal punto di vista del programma va applicato, si applica solo se poi ci sono i numeri. Il tema dei numeri è un tema importante per voi e vi dicono sempre l'autosufficienza. Se non ci sarà, che cosa si potrà fare? Io ho sempre detto che il giorno dopo le elezioni noi dialogheremo con tutti. Io spero di portare il Movimento 5 Stelle al 40% e riuscire quindi ad ottenere i numeri per governare. Qualora non dovessimo ottenere il 40%, ma per esempio il 35% come l'abbiamo ottenuto in Sicilia qualche mese fa, avremo il triplo dei parlamentari che abbiamo oggi. Tutte le forze politiche dovranno rapportarsi con noi per formare un governo, perché loro non hanno gli incastri. Il Movimento 5 Stelle si assumerà la responsabilità di garantire un governo a questo paese. Lo faremo utilizzando le consultazioni che ci dà la Costituzione con l'incarico di governo appena ottenuto. Lo faremo nell'ottica di garantire stabilità al paese. Votare per noi significa garantire stabilità.